Leonardo Bartolucci è il nuovo presidente della CIS di Fano, subentra a Giovanni Giovanelli. Dopo aver svolto il ruolo di segretario nei metalmeccanici, prima a livello provinciale e poi a livello regionale dal 2005, e ad aprile di quest'anno ricopro il ruolo di responsabile del territorio di Fano per la CIS, un territorio che va lungo le valli della Val Metauro e della Val Cesano, quindi un ruolo che cambia, che va a collocarsi invece oggi su quelli che sono gli aspetti della contrattazione sociale, quindi quella che è la contrattazione con i comuni, quella che è la contrattazione con gli ambiti, per tutto quello che è l'aspetto legato ai servizi sociali, alle tariffe, a tutti quelli che sono gli aspetti che ci riguardano come cittadini. Questo è un territorio molto vivace, c'è un buon livello di contrattazione che si sta svolgendo con i comuni, e questo riguarda sia i comuni più grandi, ma anche quelli di dimensioni più piccole. Anche qui stiamo cercando di provare a sviluppare contrattazione, ma anche a guardare un po' a quelle che sono le prospettive, per cui uno degli aspetti che ogni tanto tendiamo a sottolineare, soprattutto nelle realtà che hanno una maggior difficoltà, poi accogliere anche le occasioni come quelle del PNRR che si sono in qualche modo manifestate, di ragionare di aggregazione di comuni, di costruire sinergie, di mettere insieme delle forze per rispondere meglio a quelle che sono le esigenze dei cittadini.